Vediamo i nuovi e-mails che ho oggi. Oh, questa è molto interessante. Ciao Alessandra, mi chiamo Francesca e penso che ho trovato l'amore della mia vita. Ti chiami Paolo. Abbiamo un contratto nel Facebook e siamo in una relazione su internet. Parliamo per un tempo lungo e non posso sentire che si nasconde qualcosa da me. Abbiamo voluto incontrare le persone alcune volte, ma ogni volta non va e più tardi mi dice una scusa che non va. Dice che ha telefonato nel lavorare o la sua madre ha bisogno di lui, ma succede troppo spesso per essere una coincidenza. E certamente diciamo di spostarsi. I suoi genitori vogliono che spostiamo senza vederci e ti amo tanto che sono disposto a farlo. Voglio andare a fondo di tutti per vedere lui se è chi dice di essere. Potrei davvero usare il tuo aiuto. Grazie Francesca. Francesca è veramente nell'amore. La telefono per aiutare a incontrare a Paolo. Pensi che potevano fare una cosa bellissima con questo. Ciao Francesca. Sono Alessandra dal programma televisio Catfish. Ho il tuo email con Paolo e ti voglio aiutare a incontrarti. Puoi venire alla casa mia domani? Ciao Alessandra. Sarete bene andrò al giorno. Ciao Francesca. Bene vederti. Cosa succede? Niente parlavo con Paolo primo di ho venuto. Per quanto tempo parli con Paolo? Ho incontrato per la prima volta su Facebook un anno fa attraverso gli amici della mia famiglia. Come spesso parlano? Parliamo ogni giorno da quando ti ho incontrato. I miei genitori pensano della sua famiglia e hanno suggesto che comincio a parlare a lui. Hanno parlato ai suoi genitori di noi sposiamo. Credo che è veramente amore e voglio incontrare a lui. Voglio vedere a lui di persona. Perché lo chiamano e vedere se vuole incontrare a te? Sì, è buona idea! Ciao Paolo, sono Alessandra del programma televisivo Catfish. Come stai? Come hai preso questo numero? Sono con Francesca qui. Mi ha detto che voi parlavate e lei vuole incontrarti. Come si senti? Posso parlare con lei tanto vuole? Sì! Ciao carino! Francesca, ti amo. Ti voglio scusare questo mese, nel 3 giugno. Oh Paolo, non posso aspettarti vero poi. Anche io. Buonanotte, mi amore. Buonanotte. 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 Aspetta. Aspetta! Aspetta! Che è successo! Chi è tu? Sono molto confusa. Mi chiamo Paolo. Mio fratello ha usato le mie fotografie. E ha agito come me, perché lui è brutto e vecchio, ma sono giovane e bello. Mi molto dispiace, lui ha fatto questa cosa terribile a te. Sei bellissima e ha un carino cuore. Non meriti questo. Non piangi, bella. Sarà bene. Così tutto questo tempo è un bugia. Sono stati guardare le cose che mio fratello e tu hanno detto. Non mi conosci, ma sento come posso conoscerti di leggere quei messaggi. Ti amo, Francesca. Non vedo ti fa male. Oh Paolo, puoi aiutarmi? Non so che fare, Francesca. Si sono sposati al mio fratello adesso. Non è niente che possiamo fare. Signora, non piangi! Oh Francesca, ti amo molto. Non ho sentito da Francesca per un tempo lungo. Mi chiedo come tu e Paolo fare. Dovrei chiamarla. Non mai telefono questo numero di nuovo. Qualcosa deve essere sbagliato. Bisogno di andare a lei adesso. Non è niente. Se ti vuoi fidare davvero di me Allo fino in fondo... No, just press it once and you can see it going down there. Oh, good job, whoever. Recording. Okay. Because the time's going down. Press it again. Oh crap, it's cutting your head out. No, you started before I hit the thing. Oh, this isn't going to happen. I don't know what's going on right now. Christina, pick up! You're not expecting anything to me! Oh, it's calling her out! Oh shoot, it's cutting off Nina's head. Hold on. No way! Is she crying? I can't do this. I can't do this. I'm grabbing on the floor. I can't do this. I don't want to do this. I can't do this. I can't do this. I can't do this. Mi mobile dis... Di... Di... Paolo... Paolo... Ayutani... Not so... Can't fire. Parli con parlo. O incontrato. I said parlo, not talo! Volio vadere. My mom was following me and I missed the script. Hello? Is it not opening? No... Wait... Hey! No! No! I didn't... No! We're going to go. We're going to go. Alright. Just do it! No! 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 Grazie a tutti